La domenica Oh, ciao! Protagoniste Sei una donna meravigliosa, io ti amo, ma... E artefici della propria vita Giochi scorretto La correttezza non paga Le donne non sono sexy da vecchie E che mi dici di Sofia Loren? Le donne Nei film in prima visione di Rai 3 Siamo solo una selezione casuale di cellule Perché non ti metti un po' di trucco? Per una donna è imprescindibile Quando sei diventata così cinica? Ho scelto di essere superiore Primo appuntamento I segreti di Osage County Domenica 24 settembre alle 21.15 Rai 3